Saranno 11.800 le famiglie della provincia di Ravenna che potranno fare domanda per il reddito di cittadinanza. Il dato arriva da un'elaborazione effettuata dalla Cisla Romagna in base al calcolo dell'Isee. Un numero destinato comunque a scendere perché, come precisa lo stesso sindacato, sono molti i requisiti da rispettare per accedere al reddito e le domande dovranno essere analizzate caso per caso. Sarebbe comunque il 6,6% della popolazione o dei dati più bassi in tutta la regione Emilia Romagna, dietro solo Piacenza con il 6,5% e 8.400 famiglie. In Romagna saranno 35.800 le famiglie che potranno presentare domanda, il 7,2% del totale. 11.700 famiglie nella provincia di Rimini, 12.300 famiglie per Forlice-Sena. La proiezione è in linea con la situazione reddituale dei cittadini romagnoli, mentre in regione sarebbe nella provincia di Parma il maggior numero di famiglie che potrebbe ricevere il sussidio con un tasso dell'8,5%, pari al tasso medio calcolato in tutta Italia, media che in Emilia Romagna si ferma al 7,4%. Ogni erogazione del reddito di cittadinanza sarà strettamente collegato al percorso che ogni percettore dovrà attivare nei centri per l'impiego, dove dovranno essere però assunti 4.000 addetti, essere formati e istruiti. Punto quest'ultimo sul quale si soffermano le critiche della Cisla. L'esperienza del reddito di inclusione, cancellato dal reddito di cittadinanza, aveva infatti evidenziato come fossero possibili distorsioni e abusi nell'applicazione di una procedura che coinvolge diversi enti, anomalie che colpiranno anche le richieste per il reddito di cittadinanza, in particolare la preoccupazione ricade contro i lavoratori in nero che potrebbero chiedere il reddito pur continuando a lavorare evadendo il fisco e contro le quali i neo addetti si troveranno a lavorare senza alcuna preparazione.